Ciao ragazzi, io sono Giulia e bentornati a Cooking Nerd! Se il gelato al Sanemarino ha rinfrescato il vostro palato, preparateli oggi per qualcosa di veramente piccante. Stiamo parlando dei CVDoc di Sonic, il famoso riccio blu dei videogiochi. Se siete curiosi di provare anche questa ricetta, diamo gli ingredienti! Gli ingredienti di oggi sono 2 Bustel e 2 panini per hot dog 2 spicchi d'aglio 1 cipolla dorata 1 cipollotto e 50 g di essiago 1 cucchiaio di cibo in polvere 1 cucchiaio di semi di cumino 1 cucchiaio di rosmarino 1 cucchiaio di salsa Worcester 2 cucchiaio di concentrato di pomodoro 300 g di tritato di manzo e 400 g di polpa di pomodoro Per le cipolle caramelate ci servono anche 1 cucchiaio di zucchero di canna 1 cucchiaio di cibo balsamico e 2 cipolle rosse Per prima cosa scaldate 1 kg d'olio in una padella e fate appassire per bene la cipolla A questo punto aggiungete anche l'aglio il cini in polvere e semi di cumino Aggiungete adesso la carne e fatela rosolare per bene salatela e aggiungete anche la salsa Worcester e il concentrato di pomodoro Unite ora la colpa di pomodoro lo zucchero, l'origano, il sale e il pepe e lasciate cuocere per circa 20 minuti Passiamo adesso alle cipolle caramellate Scaldate in una padella un filo d'olio e lasciatevi appassire le cipolle rosse e tagliate a fettine per 15 minuti Dopodichè aggiungete anche l'aceto e lo zucchero Fate evaporare per 5 minuti e mettete da parte Infine bollite gli ustel o se preferite potete anche piastrarli Adesso possiamo farcire il panino Per prima cosa tagliatelo a metà e inserite il ustel bollito e le cipolle caramellate Adesso unite anche la carne che abbiamo preparato e infine condite con il formaggio e il cipollotto I nostri cibi dog sono pronti e per essere in tema di Sonic abbiamo aggiunto anche gli anelli di cipolla come gli anelli che raccogliamo durante il gioco Se questo video vi è piaciuto ricordate sempre mettere mi piace e commentarlo e soprattutto condividerlo Iscrivetevi al canale Youtube se non avete ancora tazzo e ci trovate anche su Facebook Ciao!